ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi ho preparato un nuovo tutorial per voi prima di iniziare vi presento la collezione di maggio della marca madame glam che contiene 10 colori bellissimi perfetti sia per estate che primavera in modo casuale sfumo tre colori con un pennello degradè disegno delle folie che saranno sotto sfondo per disegnare le folie uso la base gel mischiata con colore nero il colore che si usa per sotto sfondo deve essere leggermente trasparente con un pennello senza dispersione disegno le folie sopra grazie a tutti Grazie a tutti. Copro l'unghia con colore bianco e spolvero sopra la polvere acrilica trasparente. Quando ho finito lo asciugo in lampada. Aggiungo i quattro colori dopo i quali li sfumo con un pennello degradé. Aggiungo i quattro colori dopo i quali li sfumo con un pennello degradé. Disegno delle montagne come sottosfondo. Per disegnare le montagne uso base gel mischiata con colore nero. Aggiungo i quattro colori. Aggiungo i quattro colori da benzo. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.